Signore e signori, ecco a voi Luke and the Hot Robs! Non riesco a pensare a un lavoro diverso da questo. Non capisco proprio perché lo fai. Perché sono un poliziotto. E lui chi è? Tuo figlio. Perché non me l'hai detto? Non ti sento da un anno. Te ne sei andato così. Io non sono stato con mio padre, guarda il risultato. Come farai a occuparti di noi? Hai un figlio. Se vuoi mantenerlo, devi farlo usando le tue forze. Allora tutti quelli che vogliono vivere, mettano le mani in alto! 1-0-4, ho la moto davanti a me. Tu svegliati! Ne faccio due in un giorno. Due attori giganteschi. Non ti permetterò di rovinare tutto. Un film straordinario. Il protagonista dei Lato Positivo, Bradley Cooper. Il protagonista di Drive, Ryan Gosling. Per la prima volta insieme. Sai una cosa? Se corri come un fulmine, ti schianti come un tuono. Come un tuono al cinema.